Si è tolta la vita una giovane donna incinta al nono mese di gravidanza che oggi avrebbe compiuto 37 anni l'estremo gesto ieri dal nono piano di un palazzo di piazza Adriano a Torino. La donna lavorava come commercialista e secondo una prima ricostruzione priva di gettarsi nel vuoto era al telefono con una collega dello studio che improvvisamente non l'ha più sentita parlare. Non appena si è accorta cos'era successo la donna ha chiamato immediatamente i soccorsi. A casa della 37enne le forze dell'ordine hanno trovato un biglietto con tutte le istruzioni ai colleghi di studio per le pratiche di lavoro da svolgere ma nessuna spiegazione del perché abbia deciso di farla finita. Sempre secondo le ultime informazioni chi la conosceva ha spiegato che era molto stanca in quanto lavorava troppo nonostante a breve avrebbe dovuto prendere la maternità per l'imminente nascita del figlio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.